vi raccontiamo di un fotografo eh naturalista che realizza però Mario dei safari fotografici davvero particolari perché si concentra su animali di piccolissime dimensioni. Grazie al suo lavoro noi possiamo scoprire e conoscere tante specie viventi sconosciute ai più. Per farci raccontare di più del suo lavoro diamo il benvenuto al rapporto mondo a Marco Colombo. Buonasera benvenuto. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Grazie Marco per essere qui con noi. Allora ti chiedo innanzitutto com'è nata l'idea di eh andare diciamo a scovare a fotografare questi esseri minuscoli. Ma io sono amante degli animali da sempre però quando c'è stato il lockdown purtroppo non si poteva uscire di casa e quindi ho cercato di fotografare gli animali che avevo nel giardino che vedevo dalla finestra e così via. E a un certo punto ho ridotto sempre di più la mia scala di osservazione andando a cercare proprio degli animaletti microscopici che si muovevano nel prato, nell'erba insomma. Quindi l'idea è nata un po' anche perché in quel contesto non si poteva andare in giro molto per fotografare. Ehm tra l'altro tu sei un autore sei l'autore di un libro ehm un libro che hai pubblicato si chiama Miriade la microscopica moltitudine eh pubblicato edito nel duemilaventitré da Publinova Negri eh noi possiamo vedere anche chiedo alla regia di mostrarci la copertina. Ecco raccontaci un pochino cosa troviamo in questo libro. Sì questo è il risultato diciamo di questo progetto a metro zero in cui racconto la biodiversità del suolo, delle piante eh delle pozze d'acqua e questi animaletti che sono tutti colorati azzurri come questi della copertina, gialli, rossi, astriscia, macchie e così via eh sono degli indicatori anche della qualità del suolo e quindi vengono studiati dai ricercatori per verificare cambiamenti ambientali anche dal punto di vista climatico. E dunque ho scelto di parlare di questi animali proprio perché sono anche degli ambasciatori in miniatura di un mondo che cambia e dei grandi problemi come il consumo di suolo per esempio no? La cementificazione, l'erosione, l'inquinamento eh del suolo che è una risorsa non rinnovabile eh purtroppo in tempi umani eppure la consideriamo molto poco e quindi è un libro di grande formato fotografico in cui ci sono anche dei testi divulgativi che raccontano curiosità su questi animaletti e dei saggi scritti da alcuni ricercatori esperti del settore. Ecco mh diciamo tu hai raccontato che hai iniziato cioè ti sei avvicinato alla fotografia, hai iniziato a fotografare da quando eri insomma piccolissimo ehm e da sempre insomma ti sei dedicato alla fotografia della natura, della biodiversità, degli esseri viventi che che la abitano. Ti volevo chiedere come è cambiato se è cambiato il tuo approccio alla fotografia anche con l'evolversi poi della della tecnologia e dei tanti nuovi strumenti che abbiamo a disposizione oggi rispetto a quando hai hai cominciato? Sì io ho iniziato a fotografare all'età di undici anni quindi c'erano ancora le diapositive e la pellicola e per tanti anni dal 99 al 2009 ho scattato con quelle poi mi sono convertito al digitale e questo ovviamente ha comportato un enorme salto avanti dal punto di vista della creatività eh perché il digitale permette di sperimentare in maniera più efficace diciamo delle tecniche molto particolari dal punto di vista fotografico mentre dal punto di vista dell'approccio diciamo che all'inizio quello che mi interessava di più era eh poter eh avere un ricordo diciamo delle mie escursioni degli 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 animali che incontravo mentre poi è diventato un vero e proprio mezzo per raccontare problemi di conservazione e l'importanza della biodiversità più che nei singoli scatti proprio nei progetti a lungo termine che durano alcuni anni. Marco abbiamo visto alcune delle foto che hai scattato e che hai pubblicato ti chiedo qual è la foto di cui sei eh più più felice quella magari l'animale l'essere vivente che ti ha colpito particolarmente raccontaci una storia. Eh io sono molto critico con le mie fotografie quindi non è che ce ne sia una che preferisco rispetto all'altra diciamo che tra gli animali che ho incontrato e che sicuramente mi hanno colpito di più c'è il proteo che è una salamandra bianca e cieca che vive nelle grotte del Friuli Venezia Giulia e dei Balcani e si trova solamente nei fiumi e nei laghi sotterranei eh quindi bisogna entrare dentro le grotte e poi fare le immersioni sott'acqua per poterla osservare. È un animale che somiglia a un piccolo drago ed è veramente evocativo anche perché vive cento anni addirittura nonostante sia lunga una spanna e e può digiunare per otto anni di fila quindi certi animali hanno dei superpoteri incredibili. Queste sono tutte cose che immagino tu abbia imparato nel nel tuo lavoro e non tutti siamo abbiamo la possibilità insomma di eh fare questo tipo di lavoro e quindi avvicinarci alla natura in questo modo eppure tu in altre occasioni hai raccontato che servirebbe in qualche modo ehm avvicinarci sperimentare la natura personalmente come possiamo fare noi magari che non facciamo i fotografi eh naturalistici? Sì allora diciamo che l'esperienza in natura è importantissima per tutti secondo me proprio dal punto di vista dei benefici anche psicofisici che sono dimostrati dalle pubblicazioni scientifiche semplicemente andare a camminare un'oretta al giorno in un bosco in spiaggia in un prato in campagna e così anche attorno a casa sicuramente è importante ehm l'ideale è non impuntarsi sugli animali più difficili da vedere più grandi più rari non lo so molto spesso chi vuole andare in natura vuole subito vedere il lupo l'orso tutti questi animali carismatici in realtà anche animali più piccoli come una salamandra in una giornata di pioggia una chiocciola eh una rana o con una concertola possono dare comunque delle emozioni incredibili e quindi l'ideale secondo me è affinare lo sguardo e eh allenare un po' questa attitudine nell'osservazione che ci rende dei piccoli detective e rende interessante ogni passaggiata. Certo ovviamente insomma ci ci dobbiamo anche noi sforzare magari no noi che abitiamo in città a a cercare ad avvicinarci a sperimentare di più la natura. Marco prima di di salutarci intanto mentre parlavi continuavamo a vedere le tue bellissime fotografie che scorrevano voglio chiederti prima di di salutarci i tuoi prossimi impegni, progetti futuri, qualcosa che ci puoi anticipare che hai in in programma? Adesso non ho grandi progetti in programma perché la maggior parte degli ultimi libri si è accumulata ed è uscita nei mesi scorsi però eh sicuramente terrò tanti corsi di fotografia io accompagno i gruppi in natura appunto per poter vedere gli animali per fare osservazione anche solo per eh capire come come identificare le tracce e quindi quasi tutti i weekend appunto accompagnerò gruppi nei principali parchi nazionali o regionali italiani e poi tengo un po' di conferenze quindi ci saranno degli incontri nelle varie città italiane proprio per raccontare la biodiversità. Bene allora noi continueremo a seguire il tuo lavoro intanto grazie a Marco Colombo Colombo fotografo naturalista per essere stato nostro ospite qui a Rapporto Mondo. Grazie. Grazie e buona serata a voi. Grazie.